Ciao e bentornati sul canale! Bentornati carissimi amici, andiamo avanti, non so più neanche quante puntate sono, con le puntate degli amici cucciolotti che vogliamo portare a termine. Cosa è successo? E dobbiamo tirare le orecchie alla Pizzardi, perché dopo già più di un mese che facciamo la collezione, ci è arrivata una lettera della Pizzardi, perché l'anno scorso abbiamo ordinato delle figurine, allora loro si ricordano di noi e ti dicono, ma che bravi che siete, che fate la nostra collezione, vi regaliamo per iniziare una figurina in omaggio e una lettera per voi, e però dovete mandarla prima che inizi la serie, o all'inizio, è già passato un mese, è troppo tardi, va bene, comunque dice, ciao supereroe, cucciolotto explorer, con questa lettera ti ho inviato in regalo una bustina della nuova collezione, dopodiché grazie, una bustina gratis insomma, apre subito e wow, libera tutta l'energia cucciolotta. Diciamo che, e poi c'è tutta la lettera che prosegue spiegando un po' quello che si troverà all'interno, e che questa era... C'è il cane con la mascherina! Attenzione, quest'anno non possiamo consegnare il nuovo album davanti alle scuole, e in realtà qualcun altro di altre case l'ha fatto lo stesso, quindi apprezziamo il gesto. Dicevo, questa cosa sarebbe bella come anteprima, cioè se arrivasse addirittura prima dell'inizio della collezione, è bellissimo sapere che sta per arrivare, no? E invece, prima di aprire i pacchetti, visto che l'avevamo detto forse la volta scorsa, andiamo a vedere a che punto siamo, molto rapidamente. Non abbiamo trovato le lettere di Sara? No, allora, cominciano a mancarne poche, come vedete, qui quattro, e si comincia a creare il mondo dei cucciolotti. Che poi le attacca a lui e... Oh no, è sbagliata! Come è sbagliata? No, ti sto imitando. Ah no, è giusta! Tu fai così. No, è sbagliata! Eh certo, vanno attaccate bene, un domani guarda che non li guarderei. Questi alla fine... Le attacco così a caso, sì? Diventano dei libri un po' costosi, però, e poi è di un... Non so se vuoi, ma per me è rilassante attaccare le figurine. È proprio rilassante. Per me è stressante. Quando arriveranno al numero giusto per ordinarle, ovviamente le ordineremo, perché più vai avanti, più i doppi diventano tanti. Quindi non è il caso di comprare pacchetti quando si possono ordinare giuste per completare. Qui la pagina è stata completata, qui ne mancano alcune. Siamo a un buon punto. Io penso abbiamo superato abbastanza il 50%, saremo al 60%, 65%. Ma lei è fatto male! Eh no, ecco, questa è una cosa che non ho capito di quest'anno della Pizzardi. Qui la maschera è totale, si attacca e corrisponde. In questa il bordo non viene via, rimane un po' come se fosse un riquadro attraverso cui guardano, una cornice, però non mi fa impazzire. E non troppe special. Cioè non c'è metallizzato, non c'è glitterato, non c'è floccato. C'è sì, un leggero metallizzato. Diciamo che siamo andati un po' su un classico di molti anni fa. Ogni tanto bisogna anche tornare un po' alle origini. Le otto bustine, sempre per avere una ciotola per i cani nei canili. Qui vediamo i cagnoloni. Il loro impegno sociale c'è sempre, anche per il mare, la plastica. Hanno inserito il memory. Quelle per imparare l'inglese. No, il bullismo come sempre. E queste sono quelle, diciamo, speciali di quest'anno. Ci dedichiamo al fantasy, quindi qui abbiamo i draghi. Qui abbiamo, c'erano una volta, quindi animali incredibili. Il regno delle creature magiche, che è quello a cui tenevamo di più, siamo indietro molto. E poi abbiamo il Mythological Puzzle. È la mia preferita. Che è molto bello, ce ne mancano. E la Mythological Puzzle. Solo due. Quindi abbiamo sguardi magnetici, il calendario 8 e andiamo verso... Magnetici perché sono pucciosissimi. Sì, pucciosissimi. E chiudiamo. Il bello che a me piace molto è che l'album è rinforzato ed è... Eh, anche a me piace questa cosa. Io quasi quasi aprirei delle bustine. Che dici? Visto che dopo dovrò... È quello che stai già facendo. Certo, perché dovevo attaccarle io. Mettiamo a fuoco il frontale e vediamo qual tigre. Gura di vittoria. Non sto... Non abbiamo ancora trovato il cancro. C'è il segno zodiacale, il mio segno zodiacale. Johnny! Questa sono sicuro che ci manca. attenti ai copioni. Inteso come quelli che imitano. Ah, non abbiamo preso le scatolette ma fa niente. Le facciamo vedere la prossima volta delle card. Abbiamo le fantasy goblin. Sei un drago? E quella dei draghi. Tu sei un drago? No, è sei un drago. Non c'è il punto di domanda, credo. Tu sei un drago? Pinguino. Vabbè. Questo sei tu. Grazie. Cuore alpino. Qui abbiamo A, B, C, D, E. Ah, di Sara! Abbiamo la A. Corso delle caverne. Vengono di trovarne anche altre. Fare la collezione è già una buona azione. Doppia. Bye bye, see you. Un dragolotto pauroso. Marlin. Un fenicottero rosa che in realtà con più calma se no passi troppo veloce non si vede bene la foto. Che se no mi sembra un po' bianco. Eh sì. Qui abbiamo dei lupi, bella questa foto. Non sarò un mago però sono un drago. Un drago, carina. Una tartaruga liuto. I delfini vivono in mare inquinato. Aiutiamoli. I feel on top of the wall. Qui abbiamo se li ascolti anche gli alberi parlano. Ha molto sottovoce. un leopardo. Sono una forza e il segno dei pesci. Siamo felici se stiamo insieme. Qui abbiamo un bel musino carino questa. Questa mi sa che ci manca. Ho trovato una. No, ce l'abbiamo. e questa la metto Johnny. Abbiamo appena trovato Johnny. Bello quel drago lì sono quasi sicuro che ci manca. Buon appetito. Dragolotto creativo. grazie. Sul sasso dormo come un sasso. Va bene. Super. Questi sono degli adesivi. Anche io dormo come un sasso. Ippocampo. Ippocampo. Sì. Avevamo trovato. Sì. Adesso cominciano ad essere tante le doppie. Cavalluccio marino. Orca. Orca. No problem. It's ok. Questo cagnolotto ci manca. Questo cagnolotto ci manca. È vero. Lettere. Tricheco. Tartaruga marina. Contrario. Passaparola. Amici cucciolotti. Amici cucciolotti. Wow. Che foto eccezionale. Tigre siberiana. Maratona cucciolotta. Fata dell'acqua. Orco. Abbiamo avuto l'orca e quindi l'orca. Giusto. Orca. Allora, questo te lo apro ma te lo faccio fare a te. Vai. Guardo solo prima che cosa abbiamo qua dentro. Vai. Oh, questo ci manca. Pterodattilo. Ippogallo. Ippogallo. Scimmia. A me? Ah no, la figurina. I need help, please. Questo drago potrebbe mancarci. Controlleremo. Buongiorno e buonasera. Carchino. Questo è il... Ah no, è una figura mitologica che fu sconfitto da Ercole. Keep on dreaming. Sedere d'elefante. Pandamonium. Urlo. Fai l'urlo. Esatto. Gatto. O simil gatto che gattone. Un dragotto puzzone che abbiamo già trovato. E un cu. Quindi continueremo. Stavi per cadere. Finiremo tutta la serie. Sempre contenti di essere qua con voi. Se lo siete anche voi mettete un like. Condividete. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Tanto è gratis. E come sempre... Boo. Boo. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.